Io vi fornisco piccole telecamerine tipo questa qua e voi per un po' di tempo vi hai portato a presso. A presso dove? Ma quando è andato a fare rapine no? Le carceri del nostro paese sono un appendice di illegalità. Aio, quello le farà ammazzare. Se vedremo domenica fa la consegna. Diggi dove sei a bianco no? Diggi dove sei a bianco? Dove sei a bianco? Rischio zero il cazzo Pio. Se ci beccano con questa roba abbonamenta regina Celi e non ci vuole nessuno. Voi, ma cos'ai che succede? Che mi vado a piantare solo. Non mi piace fare la mariana per culo. Lo sai che succede se qualcosa era stato così? Noi! Poi! Grazie a tutti